Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial come potete vedere ho problemi con il proxy quindi impossibile raggiungere il sito ovviamente sono riuscito a risolvere questo problema grazie a una VPN che ho scaricato da Chrome Web Store e ho risolto tutto e ho proseguito così su questo sito quindi quello che bisogna fare è andare un attimo su Chrome Web Store scrivere un attimo proxy VPN questa qua così trovare il primo free VPN for Chrome installare così questa VPN su Google Chrome una volta scaricato e installato su Chrome eccola qui noi possiamo scegliere il paese dove ok, scegliamo la nostra proxy questa, cioè ho scelto Amsterdam perché funziona perché in America non funziona su questo sito quindi vado su Amsterdam lo attivo aggiorno la pagina ed eccolo qua il sito va perfettamente grazie a questa VPN in Italia questo sito non funziona per adesso invece su altri paesi va quindi spero tanto di essere visitato da noi ragazzi iscrivetevi al mio canale lasciate un like attivate la campanella e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao